L'ultima, ecco anche il principio diciamo cronologico di selezione di queste poesie, è di Filippo Giordano. Anche qui poche parole, ma un paio li voglio dire perché fa a pari questa poesia che si chiama Chennic e Nacche con la poesia che la Pinuccia ha recitato sul Golgi, l'istituto di riposo. Perché secondo me lì, da un certo punto di vista e qui da un altro, viene, come ho detto prima, dato valore, quello che ha alla vecchiaia. La scorcia delle muni scavusciate, di Enzo Romano, Chennic e Nacche. Sopra un fuorizzo che ne stava assettato, entra una casa di antica sderropata, vitte un micchiarietto appenserato. Sa bene a lei che ci disse. Voi sia, io avevo per caso bisogno di me. Portare a me volessi per il paese, sto panaro, la mia nole mordise. E io pure, quaccio figo, ma redde, ma è troppo stella assata la mia pelle. Dove scambio di ragina mi coglia e soprattutto la mia nole mordise. Io capace che ne vai a Liegio, se tu vuoi, c'è un passaggio. Con me non si sente suazzare, non c'è un motivo per risagliare. Tu sei figlio di Mariano, tecanoso, che dove stavano nel quartiere Vascio. Ora c'è una porta scancarata, a così cominciamo a fare risciata. Stamattina mi resta la testa a restare. Vimmi ste figo a rimpicciolare. Ma se non passate tu, la via all'assata. Non hai più iale per certe imprese. Ma lì non hanno più le mie cammise. A Liegio, a Liegio, che io, ma avanti, scondoriavo, pensavo erano gigante. E' un'altra parte, sotto il tuo concerto, dopo spavano a sciaccare le mani. Da casa a dire chi dà la bancata. C'è una ricorda, una zubbagliata. Parlano, parlano. Intra, arrivavo. Quattro sgange per forza me la stavo. Non s'accio cominciare a ringraziare, fino a chi mi veniste a lasciare. No, non lo voglio, ossia lasciare a lasciare stare. Che necchè e necchè, tutto l'abbicchiare. Ossia, non realizziamo ufficio. I suoi parole rincia a sta cornice.